Questa volta le facce delle persone riunite nella mensa mostravano meno fiducia. Nessuno cercava di nasconderlo, meno che mai Parker e Ripley. Dopo aver visto quello che dovevano affrontare, la fiducia che ancora avevano era davvero minima. Dallas stava esaminando un diagramma della Nostromo appena fatto stampare. Parker era in piedi accanto alla porta e ogni tanto lanciava un'occhiata nervosa al corridoio. Di qualunque cosa si trattasse era grande. Gli è calato addosso come un fottuto pipistrello gigantesco. Dallas sollevò gli occhi dal disegno. Sei assolutamente sicuro che abbia trascinato Brett in una presa d'aria? È scomparso dentro un condotto di refrigerazione. Ripley si stava grattando il dorso di una mano con quello dell'altra. Sono sicura di averlo visto entrare e poi non poteva andare da nessun'altra parte. Non ci sono dubbi. Si sposta lungo il sistema di ariazione. È per questo che non l'abbiamo mai rilevato con lo strumento di Ash. Le prese d'aria. È ragionevole. Jones fa la stessa cosa. Lambert si stava trastullando con il caffè mescolando il liquido scuro con un dito. Brett potrebbe essere ancora vivo. Impossibile. Ripley non voleva essere fatalista. Solo logica. L'ha tirato su come una bambola di pezza. Che se ne fa di lui comunque? Perché prenderlo invece di ucciderlo sul posto? Forse ha bisogno di un'incubatrice per servirsene come la prima forma si era servita di Kane. O di cibo, disse a denti stretti Ripley e rabbrividì. Lambert posò la tazza di caffè. In ogni modo ne ha eliminati due. Ne restano cinque dal punto di vista dell'alieno. Parker aveva continuato a rigirare il tubo elettrico nelle mani. Adesso si voltò e lo scagliò con forza contro una parete. Si piegò. Cadde per terra. E crepitò un paio di volte. Prima di giacere immobile. Secondo me dobbiamo far saltare lo sporco bastardo con un laser e correre il rischio. Dallas cercò di mostrarsi comprensivo. Sappiamo cosa provi Parker. Brett era simpatico a tutti. Ma dobbiamo conservare la calma. Se la creatura è come dite, contiene abbastanza acido da provocare un foro grande come questa stanza. Per non parlare di cosa succederebbe ai circuiti e ai controlli che passano attraverso lo scafo. Non possiamo assolutamente rischiare. Non ancora. Non ancora. La sensazione di impotenza annullava in Parker gran parte della furia. Quanti ne devono morire, oltre a Brett, prima che tu capisca che quello è il solo modo di risolvere la situazione. Non funzionerebbe in ogni caso, Parker. Il macchinista si voltò verso Ash, lo sguardo accigliato. Che intendi dire? Voglio dire che si dovrebbe raggiungere un organo vitale al primo colpo di laser. Secondo la tua descrizione, adesso la creatura è estremamente veloce, oltre che grande e forte. Credo sia ragionevole supporre chi abbia la stessa capacità di rigenerazione della prima forma a foggia di mano. Il che significa che va uccisa istantaneamente, altrimenti ci sarebbe subito addosso. Sarebbe difficile anche se l'avversario fosse un uomo, ma con questo alieno è praticamente impossibile, perché non abbiamo idea di quali siano i suoi punti vitali. Non sappiamo nemmeno se ne abbia, capisci? Cercava di mostrarsi comprensivo, come lo era stato Dallas. Tutti sapevano quanto fossero stati amici i due macchinisti. Non immagini che cosa succederebbe? Supponiamo che un paio di noi riescano ad avvicinare la creatura in uno spazio aperto, dove sia possibile spararle senza che vi siano ostacoli, il che non è assolutamente detto. Lo colpiamo con i laser, o mezza dozzina di volte, prima che ci faccia a pezzi. Le sei ferite si rimarginano con sufficiente rapidità da evitare la morte dell'alieno, ma non prima che sia uscito sangue bastante per praticare molti fori nella nave. Forse parte dell'acido brucia i circuiti che controllano le nostre riserve d'aria, oppure interrompe l'alimentazione e l'impianto di illuminazione. Non penso che sia una prospettiva irrealistica. Considerando quello che sappiamo della creatura e quale sarebbe il risultato, avremmo perso altre due o più persone e la nave sarebbe in condizioni peggiori che non prima di affrontarlo. Parker non replicò. Assunse un'espressione tetra e poi finalmente borbottò. Allora che diavolo facciamo? Il solo piano che abbia possibilità di funzionare è quello di prima, gli disse Dallas sollevando i diagrammi. Trovare in quale condotto si è infilato, spingerlo in una camera di decompressione e spedirlo nello spazio. Spingerlo? Ti sto dicendo che quel figlio di puttana è grande! Sputò con disprezzo sul suo tubo elettrico contorto. Con quegli affari, quella cosa non si spinge da nessuna parte! «Una volta tanto ha ragione», disse Lambert. «Dobbiamo costringerlo ad entrare in una camera di decompressione. Come facciamo?» Ripley percorse con lo sguardo quel piccolo campione di umanità. «Penso che sia giunto il momento che il nostro dipartimento scientifico ci dia qualche ragguaglio sul nostro visitatore. Non hai nessuna idea, Ash?» L'addetto scientifico riflettei un attimo. «Beh, sembra essersi ben adattato ad un'atmosfera ricca di ossigeno. Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con la spettacolare rapidità di crescita in questo stadio». «Questo stadio? Vuoi dire che potrebbe trasformarsi in qualcos'altro?» Ash allargò le braccia. «Ne sappiamo così poco. Dovremmo essere pronti a qualsiasi cosa. Ha già compiuto tre metamorfosi, da uovo a mano, da mano a quell'affare che è uscito dal corpo di Kane e da quello a questa forma bipede molto più grande». Fece una pausa, poi aggiunse. «Se assumesse un'altra forma, potrebbe essere più grande e potente». «Incoraggiante! Che altro?» Oltre che l'atmosfera, si è certamente ben adattato alla nuova alimentazione. Sappiamo quindi che può sopravvivere con molto poco, in diverse atmosfere e forse anche in assenza di atmosfera per un imprecisato periodo di tempo. Forse l'unica cosa che non conosciamo è la sua capacità di reagire a drastici cambiamenti di temperatura. A bordo della nostro uomo è piacevalmente tiepido. Considerando il clima del mondo sul quale l'abbiamo trovato, penso che come deterrente si possa ragionevolmente escludere il freddo, anche se la forma uovo poteva essere più resistente di questa. Ci sono precedenti in tale senso. «D'accordo. Che suggerisci a proposito della temperatura? Che succederebbe se la facessimo aumentare?» «Proviamo». «Non possiamo aumentare la temperatura di tutta la nave per la stessa ragione per cui non possiamo eliminare tutta l'aria. Non abbiamo ossigeno sufficiente nelle tute. La capacità di spostamento sarebbe limitata. Dentro i congelatori saremmo indifesi» e così via. «Però la maggior parte delle creature si ritira davanti al fuoco. Non è necessario riscaldare tutta la nave. Potremo avvolgere dei cavi ad alta tensione intorno a qualche corridoio e farcelo entrare. Quello lo friggerebbe». «Non abbiamo a che fare con un animale. O se lo è, è eccezionalmente abile. Non si getterà la cieca su un cavo. O qualunque cosa del genere che blocchi un evidente locale di transito come un corridoio?» «Lo ha già dimostrato scegliendo i condotti dell'aria come vie di comunicazione invece che i corridoi. Inoltre alcuni organismi primitivi come gli squali sono sensibili ai campi elettrici. Tutto sommato non è una buona idea. Forse riesce a rilevare i campi elettrici generati dai nostri corpi. Forse è così che ci evita». Parker sembrava dubbioso. «Non scommetterei che non dipenda dagli occhi. Non mi piace usare metodi contorti. Quando uscirà dalla camera di decompressione voglio esserci. Voglio vederlo morire. Voglio sentirlo gridare come Brett». «Quanto ci vuole per mettere insieme tre o quattro lanciafiamme? Dammi venti minuti. Le strutture essenziali ci sono già nel magazzino. È solo questione di modificarle per renderle portatili. Puoi farli sufficientemente potenti? Non vogliamo trovarci nella situazione descritta da Ash se usassimo il laser. Vogliamo qualcosa che lo arresti di botto. Non ti preoccupare. Li regolerò in modo che cuociano tutto quello che toccano. «La nostra possibilità migliore sembrerebbe questa». Il comandante guardò intorno alla tavola. «C'è qualcuno che abbia un'altra idea?» Nessuno l'aveva. «Bene». Dallas si scostò dal tavolo. Si alzò. «Quando Parker sarà pronto con il lanciafiamme? Cominceremo da qui e andremo a livello C e al deposito dove ha preso Brett. Poi cercheremo di trovarlo partendo da lì». Parker sembrava dubbioso. «Per arrivare al condotto si è arrampicato per il sostegno dello scafo. Sarà un inferno seguirlo lassù. Non sono una scimmia». Fissò Ripley come per ottenere un commento, ma lei non disse niente. «Preferisci stare qui da aspettare che decida di venire a cercarti? Quanto più riusciamo a tenerlo sulle difensive, tanto meglio è per noi. Tranne per un particolare. Quale? Non siamo sicuri che sia mai stato sulle difensive». Lo guardò fisso negli occhi. I lanciafiamme erano più ingombranti dei tubi elettrici e sembravano meno efficaci. Ma i tubi avevano funzionato come previsto e Parker aveva assicurato che lo avrebbero fatto anche gli inceneritori. Questa volta preferì non dare una dimostrazione perché, spiegò, erano sufficientemente potenti da forare le paratie. Il fatto che fosse disposto ad affidare la propria vita a quegli strumenti era di per sé una prova, tranne che per Ripley. Cominciava a sospettare di tutto e di tutti. Era sempre stata un po' paranoica. Gli ultimi avvenimenti l'avevano fatta peggiorare. Stava cominciando a preoccuparsi per la propria mente quanto si preoccupava per l'alieno. Naturalmente, non appena l'avessero trovato e l'avessero ucciso, i problemi mentali sarebbero svaniti. Non era forse vero? Il gruppetto compatto di nervosi esseri umani procedeva cautamente dalla mensa a livello B. Si dirigevano verso la scaletta di bocca a porto più vicina, quando tutti e due i rilevatori cominciarono a suonare freneticamente. Ash e Ripley spensero rapidamente i segnali acustici. Dovettero seguire lo spostamento degli aghi solo per una dozzina di metri prima di sentire un rumore diverso, più forte, quello di metallo spezzato. «Calma!» Dallas sollevò il lanciafiamme, svolto all'angolo. I forti rumori di lacerazioni continuavano, adesso in modo più chiaro. Sapeva da dove provenivano. «Il deposito del cibo! È lì dentro!» «Ascoltate! Gesù! Deve essere grosso! Quanto basta! Io l'ho visto, ricordi! È forte!» Ha trasportato Brett come... Parker si interruppe a metà frase, con il ricordo di Brett che gli aveva tolto ogni desiderio di conversazione. Dallas alzò la bocca del lanciafiamme. «Sulla parte posteriore del deposito c'è un condotto. È passato di lì!» Si voltò per guardare Parker. «Sei sicuro che questi affari funzionino? Li ho fatti io, no? È questo che ci preoccupa!» Andarono avanti. I rumori continuavano. Quando furono davanti al deposito, Dallas guardò prima Parker, poi la maniglia. Il tecnico afferrò con riduttanza la pesante sporgenza. Dallas si tirò un paio di passi indietro, preparò il lanciafiamme. «Adesso!» Parker aprì di scatto il portello. Si fece da parte con un salto. Dallas premette il grilletto della rozza arma. L'entrata del deposito del cibo fu invasa da un fascio sorprendentemente ampio di fuoco arancione e tutti si allontanarono per il calore intenso. Dallas si portò rapidamente avanti, ignorando la gola che gli bruciava, e lanciò un'altra fiammata all'interno, poi una terza. Aveva superato la soglia rialzata e doveva contorcersi per poter sparare sui lati. Trascorsero nervosamente diversi minuti all'esterno, aspettando che il deposito si raffreddasse abbastanza da permettere di entrare. Nonostante l'attesa, il calore irradiato da rifiuti fusi e fumanti all'interno era così intenso che erano costretti a camminare con cautela per non sbattere contro le lamiere del forno o le pareti della stanza. Il deposito era andato completamente perduto. L'opera che l'alieno aveva iniziato, Dallas, l'aveva portata a termine. Sul muro si vedevano profonde striature nere, testimonianza della potenza dell'inceneritore. Il fetore dei componenti carbonizzati del cibo artificiale e dei contenitori era insostenibile in quell'ambiente ristretto. Nonostante la rovina provocata dal lanciafiamme, nel deposito non era andato tutto distrutto. Intorno giacevano ampie prove dell'azione dell'alieno, non toccate dalle fiamme. Sul pavimento erano sparse confezioni di tutte le dimensioni, aperte in modi e con mezzi che i loro fabbricanti non avrebbero mai previsto. Solide lattine, chiamate così per tradizione e non per le loro componenti metallurgiche, erano state sbucciate come se fossero state frutti. Da quanto potevano vedere, l'alieno non aveva lasciato molte cose intatte all'azione dell'anciafiamme. Tenendo a portata di mano i rilevatori e gli inceneritori, cercarono fra i rifiuti. Un fumo acre saliva bruciando gli occhi, un esame attento di tutte le pile di dimensioni adeguate non fornì la scoperta in cui speravano. Poiché tutto il cibo a bordo dell'anostromo era artificiale e di composizione omogenea, le eventuali ossa che avessero trovato sarebbero appartenute all'alieno. Ma la cosa che più si avvicinasse a delle ossa furono le lamine di sostegno di alcune grosse casse. Ripley e Lambert si rilassarono, appoggiate a una parete ancora calda, ma si ricordarono che non potevano farlo. Non l'abbiamo preso. Allora dove diavolo è? Lì dentro. Si voltarono tutti per guardare Dallas in piedi accanto alla parete di fondo, dietro un mucchio di plastica nera fusa. Il lanciafiamme rivolto verso la paratia. Se n'è andato di qui. Avvicinatisi, Ripley e gli altri videro che Dallas era davanti alla prevista apertura per la ventilazione. La grata protettiva che normalmente copriva il foro era per terra, fatta a pezzi. Dallas staccò la pila della cintura, diresse il fascio di luce dentro il condotto. Rivelò solo il metallo levigato che curvava in lontananza. Quando parlò sembrava eccitato. Era ora che ci andasse bene qualcosa. Di che stai parlando? Lui li guardò. Non vedete? Questo potrebbe rivelarsi un vantaggio. Il condotto termina la camera di decompressione principale. C'è solo un'altra apertura sufficientemente larga dalla quale la creatura può passare e la possiamo coprire. Poi la spingiamo nella camera di decompressione con il lanciafiamme e la mandiamo nello spazio. Certo. Il tono di Lambert mostrava che lei non condivideva l'entusiasmo del comandante per il progetto. Non ci vuole niente, basta dargli la caccia strisciando lungo il condotto, trovare la strada nel labirinto finché non si effaccia a faccia con la creatura e poi pregare che abbia paura del fuoco. Il sorriso di Dallas si affievolì. La presenza dell'elemento umano rende la situazione un po' meno semplice, no? Ma dovrebbe funzionare, ammesso che il fuoco lo spaventi. È la nostra migliore possibilità. In questo modo non dobbiamo spingerlo in un angolo e sperare che le fiamme lo uccidano in tempo. Può continuare a ritirarsi proprio verso la camera in attesa. Va tutto bene. Il problema è chi va a cercarlo? Dallas scrutò il gruppo, cercando la persona più adatta per la caccia letale. Ash aveva i nervi più freddi, ma Dallas continuava a nutrire sospetti nei suoi confronti. In ogni caso, il lavoro di Ash per trovare una sostanza che annullasse gli effetti dell'acido dell'alieno lo escludeva come possibile candidato per quell'impresa. Lambert si comportava da dura, ma era quella che più probabilmente sarebbe andata in pezzi sotto tensione. Per quanto riguardava Ripley, non ci sarebbero stati problemi fino al momento del confronto vero e proprio. Non era sicuro che non si bloccasse per la paura. Pensava di no, ma poteva rischiare la sua vita basandosi su un'impressione? Parker. Parker pretendeva sempre di essere un duro figlio di puttana. Si lamentava molto, ma sapeva svolgere un lavoro difficile e compierlo fino in fondo quando doveva. Lo testimoniavano i tubi elettrici e adesso il lanciafiamme. Inoltre era il suo amico quello che era stato catturato dall'alieno e sapeva usare il lanciafiamme meglio di chiunque altro. Beh, Parker, hai sempre voluto lo stipendio completo ed un premio di fine viaggio. Sì? Entra nel condotto. Perché proprio io? Dallas pensò di spiegargli tutte le sue ragioni, decise invece di rispondere con semplicità. Voglio solo vederti guadagnare tutta la tua parte, ecco tutto. Parker scosse la testa, fece un passo indietro. Niente da fare, la mia parte puoi prenderla tu. Puoi prenderti tutto il mio stipendio, indicò l'apertura del condotto. Io lì non ci vado. Vado io. Dallas guardò Ripley. Lui aveva sempre pensato che una volta o l'altra si sarebbe offerta volontaria. Strana donna. L'aveva sempre sottovalutata, come tutti. Lascia perdere. Perché? Sì, perché? Se è disposta ad andare, perché non lasciarla fare? Ho deciso così. La guardò. Vide il miscuglio di risentimento e di confusione. Non capiva perché l'avesse rifiutata. Beh, non aveva importanza. Forse un giorno gliel'avrebbe spiegato. Se fosse riuscito a spiegarlo a se stesso. Tu occupati della camera di decompressione. Ash, tu rimani qui e copri questa parte, nel caso riuscisse in qualche modo a venirmi dietro. Parker, tu e Lambert coprite l'uscita di cui ho parlato prima. Lo guardarono tutti con sguardi di comprensione. Non c'erano dubbi su chi sarebbe entrato nel condotto. Ripley raggiunse ansimante il locale accanto alla camera di decompressione di tribordo. Uno sguardo al rilevatore non mostrò alcun movimento nella zona. Azionò un interruttore rosso che era vicino. Un lieve ronzio riempì quella parte di corridoio. La massiccia porta si spostò di lato. Quando fu completamente aperta e il ronzio si fu interrotto, accese il citofono. Pronta la camera di decompressione di tribordo. Parker e Lambert raggiunsero la sezione del corridoio specificata da Dallas e si arrestarono. A tre quarti di altezza della parete, coperto da nagrate e dall'aspetto innocente, si apriva il condotto di ventilazione. Se cerca di venire da questa parte uscirà di lì. Lambert annui. Andò al citofono più vicino per riferire che erano in posizione. Nel deposito dei cibi, Dallas ascoltava con attenzione, mentre il rapporto di Lambert faceva seguito a quello di Ripley. Dallas pose un paio di domande, comunicò di aver ricevuto le risposte e spense. Ash gli passò il lanciafiamme. Dallas regolò l'ugello e sparò un paio di rapide e corte fiammate. Funziona ancora. Parker è un tecnico migliore addirittura di quanto creda. Notò l'espressione sul volto di Ash. Qualcosa che non va? Ormai è deciso. Non spetta a me fare commenti. Sei l'addetto scientifico, commenta pure. Quello che voglio dire non ha niente a che fare con la scienza. Non è il momento per le pignolerie, di quello che hai in mente. Ash lo guardò con sincera curiosità. Perché vai proprio tu? Perché non hai mandato Ripley? Era disposta ad andare ed è sufficientemente competente. Non avrei neppure dovuto proporre qualcun altro. Stava controllando il livello del fluido dentro il lanciafiamme. È stato un errore. La responsabilità è mia. Ho lasciato che Kane scendesse dentro la nave aliena. Adesso tocca a me. Ho già delegato abbastanza rischi, senza assumerne nessuno. È tempo che lo faccia. Tu sei il comandante. È il momento di essere pratici, non eroici. Quando hai mandato Kane hai fatto la cosa giusta. Perché cambiare adesso? Dallas gli sorrise. Non era facile cogliere Ash in contraddizione. Non sei certo quello che ha il diritto di parlare di procedure corrette. Sei stato tu ad aprire il portello per farci rientrare nella nave, ricordi? L'addetto scientifico non replicò. Quindi non venire a dirmi cosa è giusto. Se ti perdessimo sarebbe più difficile per tutti, specialmente adesso. Hai appena detto che ritieni che Ripley sia competente. Sono d'accordo. È quella che viene dopo di me nella linea di comando. Se non ritorno tutto quello che so fare io lo sa fare anche lei. Non sono d'accordo. Stavano perdendo tempo. Non si poteva dire quanto ormai si fosse allontanata la creatura. Dallas era stanco di discutere. Peccato. Ormai ho preso una decisione ed è definitiva. Si voltò. Voggiò il piede sul bordo del condotto, poi infilò lanciafiamme davanti a sé, assicurandosi che non scivolasse sulla superficie leggermente in pendenza. Così non funziona. Borbottò guardando dentro. Non c'è spazio sufficiente per avanzare chinato. Tolse il piede. Dovrò strisciare. Abbassò la testa e si insinuò nell'apertura. Il condotto era più stretto di quanto avesse sperato. Non riusciva ad immaginare come avesse fatto ad entrarci qualcosa delle dimensioni descritte da Parker e Ripley. Bene. Dallas sperava che il condotto continuasse a restringersi. Forse la creatura, nella fretta di fuggire, vi si sarebbe incastrata. Quello avrebbe reso tutto più semplice. Come va? Gli domandò da dietro la voce di Ash. Non troppo bene. Dallas si dispose in posizione per strisciare. È grande quanto basta per essere scomodo. Accese la pila. Armeggiò ansiosamente prima di ritrovare il microfono da gola sul quale era scivolato. La luce mostrava un condotto scuro e vuoto che si estendeva davanti a lui e procedeva lungo una metallica linea retta con una leggera inclinazione verso il basso. La pendenza sarebbe aumentata, lo sapeva. Doveva scendere di un intero livello, prima di emergere alle spalle della creatura, davanti alla camera di decompressione di Tribordo. Ripley, Parker, Lambert, mi ricevete? Sono nel condotto, mi preparo a scendere. Sotto, Lambert parlò nel citofono della parete. Ti riceviamo. Cercherò di rilevarti non appena sarai nel nostro raggio. Accanto a lei, Parker sollevò il lanciafiamme e fissò la grata che copriva il condotto. Parker, se cerca di uscire dalla vostra parte fate di tutto perché rientri. Io continuerò a spingerlo verso il basso. Giusto. Pronta accanto alla camera di decompressione, riferì Ripley. Il portello è aperto e aspettiamo ospiti. Stanno arrivando. Dallas cominciò a strisciare, con gli occhi fissi sulla galleria e le dita sui controlli dell'inceneritore. In quel punto il condotto era largo meno di un metro. Il metallo gli strusciava insistentemente sui ginocchi e desiderò di essersi messo un secondo paio di pantaloni. Troppo tardi adesso, riflette. Tutti erano pronti ai loro posti. Non poteva tornare indietro. Come va? Una voce risuonò nel suo ricevitore. Bene Ash, non ti preoccupare per me. Tieni gli occhi aperti nel caso mi passasse dietro. Seguì la prima curva del condotto, sforzandosi di raffigurarsi lo schema esatto del sistema di ventilazione della nave. Il diagramma che aveva esaminato nella mensa lo ricordava confusamente. Le prese d'aria non erano certo elementi critici della nave. Era troppo tardi per desiderare di averle studiate meglio. Davanti a sé poteva vedere diverse altre strette curve. Fece una pausa, respirando pesantemente, e sollevò il lanciafiamme. Non c'era nulla che indicasse che quelle curve nascondessero qualcosa, ma era meglio non rischiare. L'indicatore di carburante dell'inceneritore segnava quasi il pieno. Non sarebbe stato male far sapere alla creatura cosa lo stesse seguendo da vicino, forse spingendola avanti senza doverla affrontare a vista. Un tocco sul pulsante rosso inviò un getto di fiamme lungo il tunnel. Nel condotto ristretto il rombo fu possente. Il calore gli tornò subito indietro attraverso la pelle che protestava. Dallas ripresa ad avanzare, stando attento a non toccare con le mani, non rivestite di guanti il metallo caldo sul quale adesso stava strisciando. Un po' di calore era riuscito addirittura a penetrare attraverso lo spesso tessuto dei pantaloni. Non lo sentiva. I suoi sensi erano tutti concentrati in avanti per notare movimenti e odori. Nel deposito Lambert esaminava pensierosa l'apertura chiusa da una grata ben fissata. Allungò una mano, azionò un interruttore. Ci fu un ronzio e la grata metallica scivolò di lato lasciando un foro vuoto sulla parete. Sei impazzita? Parker la guardò con espressione incerta. È di qui che deve uscire se abbandona il condotto principale. Teniamola aperta. Dietro la grata è troppo buio. Preferisco sapere se arriva qualcosa. Parker stava per obiettare, ma decise che avrebbe speso meglio le proprie energie se avesse tenuto d'occhio il condotto, con la grata o senza. In ogni caso Lambert gli era superiore di grado. Il sudore gli colava sugli occhi, insistente come un gruppo di formiche, e Dallas dovette fermarsi per asciugarlo. Il sale bruciava, oscurandogli la vista. Davanti il condotto scendeva ripidamente. Era a grosso modo come se l'era aspettato, ma la soddisfazione di vedere il proprio ricordo confermato non gli dette molto piacere. Ora doveva stare attento anche a mantenere l'equilibrio, oltre che al condotto vero e proprio. Mentre strisciava verso la discesa, puntò e lanciafiamme in basso ed emise un altro rombante getto. Non fu raggiunto da alcun urlo, da alcun odore di carne bruciata. La creatura era ancora lontana. Si domandò se stesse strisciando, forse arrabbiata, forse impaurita, in cerca di un'uscita, o forse stava aspettando, rivolta verso l'insistente inseguitore, pronta ad accoglierlo con sistemi di difesa inimmaginabili. Nel condotto faceva caldo, e lui cominciava a essere stanco. C'era un'altra possibilità, considerò, che sarebbe successo se la creatura avesse in qualche modo trovato un'altra uscita dal condotto. In quel caso, il suo lungo, tormentoso strisciare sarebbe stato inutile. Restava sempre un solo modo per risolvere tutti quegli interrogativi. Cominciò a scendere a testa in giù per la ripida pendenza, tenendo in equilibrio il lanciafiamme, puntato verso il basso. Fu Lambert, che per prima notò il movimento dell'indicatore, trascorse un minuto nervoso finché i risultati di un rapido calcolo corrisposero a una quantità conosciuta. «Cominciamo a rilevarti», informò il lontano Dallas. «Bene». Si sentì sollevato nel sapere che altri conoscevano esattamente la sua posizione. «Restate su di me». Il condotto curvò di nuovo. Non ricordava tante svolte e tanti gomiti, ma era sempre certo di essere nel condotto principale. Non aveva incontrato neppure una galleria sufficientemente larga da far passare qualcosa che fosse più grande di Jones. Nonostante la capacità che l'alieno aveva dimostrato di infilarsi in posti piccoli, Dallas non lo credeva in grado di restringere la propria massa tanto da infilarsi in un tubo secondario di solo una dozzina di centimetri di diametro. La curva che doveva affrontare adesso si dimostrò particolarmente difficile da superare. La lunga canna rigida del lanciafiamme non semplificava certo le cose. Ansimando rimase steso a pensare a come procedere. «Ripei». La chiarezza della comunicazione la fece sussultare. Si affrettò a rispondere nel suo microfono portatile. «Sono qui, ti ricevo bene. Qualcosa non va? Sembri...» Si riprese. Come altro poteva sembrare Dallas se non nervoso. «Sto bene, sono solo stanco, fuori forma. Troppe settimane di personno. Si perde tono muscolare qualunque cosa faccia il congelatore». Si contorse per assumere una posizione diversa. Riuscì a vedere meglio davanti a sé. «Non credo che questo condotto avanzi ancora per molto. Comincia a far caldo». «Anche quello se lo doveva aspettare», si disse. L'effetto cumulativo delle numerose fiammate dell'inceneritore metteva alla prova la capacità di rifrigerazione dei termostati del condotto. «Continuo ad avanzare. State pronti». Uno spettatore avrebbe facilmente potuto leggere il sollievo sulla faccia di Dallas quando finalmente uscì dal piccolo tunnel. Questo si apriva su uno dei principali condotti di areazione della Nostromo, una galleria doppia divisa da una passerella. Trisciò fuori della galleria e si alzò in piedi sulla passerella priva di ringhiera, stirandosi con soddisfazione. Un attento esame del locale più ampio si dimostrò negativo. Il solo suono che sentiva era il paziente pulsare dei macchinari di rifrigerazione. A poca distanza c'era un locale per la manutenzione. Ci si diresse ed effettuò un'altra ispezione. Per quanto riusciva a vedere, anche quella grande stanza era vuota. Niente poteva avvicinarglisi di sorpresa, non mentre era nel centro della stanza. Darebbe stato un buon posto dove prendersi un paio di minuti del riposo di cui aveva tanto bisogno. Si sedette sulla passerella, esaminando distrattamente il pavimento sottostante, e parlò nel microfono che aveva la gola. Lambert, com'è il segnale che ricevi? Sono in uno dei locali d'incrocio, nella camera centrale. Sono solo. La navigatrice osservò il rilevatore, assunse improvvisamente un'espressione perplessa. Guardò preoccupata Parker e gli mise lo strumento sotto gli occhi. Riesci a capirne qualcosa? Parker esaminò l'ago e il quadrante. No, questo non è un mio giocattolo. È roba di Ash. Strano, però. Lambert? Eccomi, non sono sicura. Armeggiò con il rilevatore. Il dato rimase incomprensibile come prima. Sembrerebbe che ci fosse un segnale doppio. È strano. Ricevi due segnali separati, distinti, da me? Uno. Ne ricevo uno impossibile. Può essere un'interferenza. Con le correnti che ci sono qui, uno strumento progettato per rilevare le differenze nelle densità dell'aria può confondersi maledettamente. Ora vado avanti. Probabilmente tutto tornerà normale non appena mi sarò spostato. Si alzò. Senza vedere la grossa mano ungulata che si volentamente dalla passerella sotto di lui. La zampa mancò appena il suo piede sinistro mentre lui procedeva. Si ritirò sotto la passerella, silenziosamente come era apparsa. Dallas aveva percorso metà locale. Si fermò. Va meglio ora, Lambert? Mi sono spostato. Mi rilevi più chiaramente? Chiaramente ti rilevo, ma ricevo sempre un segnale doppio e credo che siano distinti. Non sono sicura quale sia il tuo. Dallas si girò intorno, fissando i vari punti della galleria, passando al vaglio soffitto, pavimento, pareti e la grande apertura del condotto dalla quale era appena emerso. Poi si soltò per guardarsi dietro, lungo la passerella, poggiando lo sguardo sul punto in cui si era seduto qualche secondo prima. Abbassò la canna dell'ancia fiamme. Se era il segnale anteriore, essendo avanzato lungo la passerella, la causa dell'altro segnale doveva essere... Il dito si tese sul grilletto dell'inceneratore. Una mano si sollevò dal basso. L'alieno era il segnale anteriore. Ripley era sola, accanto al condotto, e guardava la camera di decompressione aperta che aveva accanto. Ci fu un suono distinto, come di un campanello. Sulle prime pensò che fosse dentro la sua testa, dove spesso si formavano strani rumori. Poi si ripetè più forte, questa volta seguito da un eco. Sembrava provenire dalle profondità del condotto. Tese le mani sul lancia fiamme, lo scampanellio cessò. Andando contro a quello che pensava fosse la cosa migliore, si avvicinò un po' di più all'apertura, tenendoci puntato l'ugello del lancia fiamme. Un suono riconoscibile, un grido. Riconobbe la voce, dimenticando ogni cautela, ogni procedura ragionevole, percorse rapidamente la distanza che separava dall'apertura. Dallas! Dallas! Dopo il primo non ci furono altri gridi, solo dei lontani colpi attutiti che rapidamente svanirono. Controllò il proprio rilevatore. Mostrava un solo segnale. E anche il suo colore rosso stava rapidamente affievolendosi, proprio come il grido. Oh mio Dio! Parker! Parker Lambert! Corse al citofono, urlò nel microfono. Quei replay! Rispose Lambert. Che succede? Ho appena perduto il segnale. Fece per dire qualcosa, ma lo lasciò morire in gola. Ricordò improvvisamente le sue nuove responsabilità. Dette forza al proprio tono. Radrizzò le spalle. Anche se non c'era nessuno che la vedesse. Abbiamo appena perso Dallas.